Inaspettata decisione dell'attrice, divenuta celebre ed amata anche per questa fiction di successo, la donna ha spiegato la scelta dolorosa in queste settimane e stanno ripartendo numerosi programmi e fiction targate Rai Sia progetti ormai storici ed appassionanti, punti fermi per gli spettatori italiani, sia novità assolute dal punto di vista del palinsesto Addio nella fiction Rai, web source, una di queste operazioni in partenza in inverno riguarda l'amatissima serie tv di Rai Uno che Dio ci aiuti La settima stagione della fiction basata su un convento di suore dovrebbe approdare sugli schermi a partire da gennaio 2023 La prossima stagione avrà però una novità che i fan certamente non approveranno in maniera così assoluta Ovvero l'addio di un personaggio storico della fiction, una delle protagoniste assolute di Che Dio ci aiuti Elena Sofia Ricci dice addio a Che Dio ci aiuti, l'attrice spiega i motivi ormai è ufficiale Elena Sofia Ricci dopo sette stagioni di Che Dio ci aiuti si toglierà definitivamente i panni di sua orangela, volto storico della fiction targata Rai ed amatissimo dal grande pubblico La Ricci, intervistata dal messaggero, ha voluto spiegare i motivi dell'abbandono In pratica l'attrice ha fatto intendere come, per deformazione professionale, abbia voglia di cambiare e vivere nuove sfide Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, Anza Foto, chi mi conosce bene sa che amo i cambiamenti e le sfide Dopo sette stagioni era arrivato il momento per me di guardare ad altro In particolare alla miniserie diretta da Carlo Carlei che abbiamo girato questa estate che verrà trasmessa il prossimo inverno sempre su Rai 1 Inoltre Elena Sofia Ricci ha fatto intendere di voler fare anche un passo in avanti di carriera, reinventandosi in un ruolo ben diverso e responsabile, credo di avere l'esperienza matura per fare la regista Sono cresciuta tanto in questi anni. Ma se devo dire tutta la verità, mi sarei incantata volentieri come un disco tra i 40 e i 50 anni Un peccato, per il pubblico di che Dio ci aiuti, che la Ricci non interpreterà più su Orangela, visti anche gli ottimi rapporti creatisi sul set Infatti la sua partner in scena Francesca Chillemi giorni fa l'aveva indicata come una di famiglia, una collega amica con cui è bello confrontarsi ed ascoltarsi